Cari amici di Fano TV ben trovati un altro approfondimento in studio per parlare di politica 8 e 9 giugno prossimi si torna a votare diamo il benvenuto alla nostra ospite la più cordiale buonasera a Francesca Cecchini di Forza Italia buonasera buonasera a tutti voi allora a sostegno della candidatura a sindaco di Luca Serfilippi andiamo a conoscerla fanese doc quindi le chiediamo di raccontarci la sua storia il suo percorso personale e anche nella vita politica in quanto civismo però perché sappiamo che suo padre ha avuto un ruolo chiave nella sua formazione esatto allora diciamo che mi sono diplomata al liceo linguistico e dove comunque già mi sono finanziata presto nell'epoca del liceo con il mio attuale marito e poi mi sono iscritta a sociologia e nel frattempo dedicavo il tempo anche a organizzare gli eventi perché ho sempre avuto una passione per gli eventi quindi la facoltà di sociologia non legata alla continuazione delle lingue data dal fatto che comunque già mi interessava un po a questo mondo degli individui della società il mio babbo è stato assessore sia comunale che provinciale e poi si è dimesso all'epoca di San Gentopoli perché comunque facendo mestiere che faceva ovviamente la faceva per passione e quindi si è dimesso quei periodi lì e io dentro casa sentivo sempre parlare discorsi diciamo inerente alla politica così mi avevano abbastanza allontanato nauseato diciamo e in questo percorso poi è successo che ho incontrato nel 2014 l'ex sindaco Stefano Guzzi il quale mi ha avvicinato e mi ha proposto di sostenere la candidatura sindaco all'epoca di Davide del Vecchio e quindi ho iniziato questo percorso poi è andata vabbè che siamo andati all'opposizione e però ho portato avanti la lista civica Lato Afano una lista civica che si occupava dei problemi della gente la vicinanza molto tutto quello che poteva succedere ma anche piccole cose che però davano aiuto alle persone anche singole e in questo percorso poi siamo arrivati fino al 2019 con la candidatura della Lucia Tarsi e anche lì mi sono candidata con una vocazione diciamo di stare proprio vicino alla gente di stare a contatto con le persone non mi ha mai interessato chissà che carriera perché comunque io il mio lavoro ce l'ho la mia attività ce l'ho però il territorio lo conosco la gente la conosco e quindi mi fa bene far del bene stare vicino alle persone che hanno bisogno che comunque hanno una marea di problemi di tutti i tipi riuscire a risolverli che mi gratifica tanto tra le sue battaglie ricordiamo un referendum sulla sanità esatto sì il referendum abbiamo fatto si chiamava io firmo per la salute e abbiamo raccolto più di mille firme in un giorno ed era proprio con Marta Costantini e Marta Ruggeri ed era per poter salvare Santa Croce che fortunatamente tuttora anche oggi è rimasto aperto allora come ha detto lei il suo percorso la porta ad essere più vicina alla gente il fatto di organizzare eventi la rende ancora di più vicina ai giovani che lei considera una delle fasce da da proteggere esattamente sì allora giovani bambini anziani diciamo che secondo me sia dopo il covid ma in generale sono sempre molto poco presi in considerazione perché anche fanno fanno una città dei bambini ok si fa la manifestazione tanto di cappello però i bambini hanno bisogno di tanto non è che per sistemare i bambini basta un'altalena uno scivolo un parchetto hanno bisogno di attività di posti dove poter condividere io lo vedo col mio concorso che può sembrare una cosa leggera eppure si aggrappano a questi eventi perché hanno modo di socializzare ma sia le famiglie che i bambini che le ragazze anche io tratto soprattutto le ragazze femmine ma anche loro hanno bisogno proprio di questi spazi dove poter emergere aumentare l'autostima vincere la timidezza comunque essere considerate non parliamo poi dell'aspetto degli anziani che purtroppo ci sarebbe bisogno di tante rsa in più di posti letto per gli anziani perché comunque ci sono famiglie veramente disastrate conosco storie personali che mi chiamano ogni giorno io ogni giorno sono a risolvere fatti personali che mi chiedono aiuto poi nel mio piccolo faccio quello che riesco ovviamente non è che c'ho la bacchetta magica neanche potere di poter fare questa cosa però secondo me vanno attenzionati in questi anni in questo percorso civico che cosa le ha le hanno insegnato insomma qual è il risultato della sua esperienza il risultato è questo che la gente va ascoltata cioè far politica la parola politica no viene dal antino greco che polis città ed è cura della città nella città vivono i cittadini questi cittadini devono essere seguiti in tutto e per tutto non basta creare strade nuove sì per carità ci vogliono strade nuove strutture nuove però la figura del cittadino in quanto figura persona individuo va attenzionata e va ascoltata ci vorrebbe molto più ascolto delle persone e mettere in pratica ovviamente quello che poi viene richiesto ovviamente senza mai quella bacchetta magica però secondo me si può fare tanto serve molto ascolto ascolto e comprensione e voglia poi di risolvere i problemi la volontà anche di risolverli qual è il senso della sua candidatura allora il senso della candidatura io ho fatto un percorso non arrivati poi dopo la candidatura della lucia tarsi e ho avuto la candidatura alle regionali insieme sempre davide del vecchio con le elezioni poi del presidente acquaroli e poi da lì l'anno scorso maggio giuseppe de leo che tutti conosciamo mi ha chiesto di ancora non c'era nessuna candidatura in ballo di nessuno quindi mi ha chiesto di dargli una mano di creare un progetto insieme per la città per la gente e in questi mesi insieme a lui abbiamo diciamo accolto la fiducia di tante persone che ci hanno seguito ci hanno stimato e diciamo che deludere la fiducia di queste persone non mi sembrava giusto poi quando è subentrata la candidatura di luca serfilippi ovviamente lui ha condiviso con me il percorso civico della tua fanno perché lui è stato prima assessore ma poi consigliere comunale della tua fanno quindi per poi passare alla lega però abbiamo condiviso un percorso insieme ovviamente non mi potevo tirare indietro avendoci lui come figura una figura giovane stimolata che ha competenza perché comunque ha fatto un percorso politico non da poco è stato il primo assessore più giovane d'italia e poi esso consigliere regionale quindi l'esperienza e la competenza ce l'ha sicuramente e la motivazione è questa ovviamente non mi vado a candidare per un sindaco che non so magari chi è oppure va lì a fare la rivista come fanno in tanti lui è lì per competenza poi è giovane e mi dà speranza che ha voglia di fare anche un figlio piccolo quindi magari no a un futuro di figlio che vive nella città mi dà mi dà proprio fiducia si citano i bambini si citano le famiglie perché lei oltre ad essere insomma vicina alle famiglie e alla gente è in primis una moglie e una mamma quindi già la sua famiglia le ha dato insomma una spinta motivazionale forte in questa scelta sì esattamente sì per me la famiglia è la base principale di qualsiasi vita io ho desiderato tanto speravo di avere una figlia femmina la sognavo e alla fine è arrivata la figlia che sognavo io ho una figlia che adesso ha 28 anni e mi ha dato mille soddisfazioni e molta carica anche per fare tutto quello che faccio perché tanto comunque quando uno è tranquilla con se stessa con la famiglia poi riesce poi a dare gli altri quindi ho la carica diciamo di amore di affetto che ho dentro casa riesco poi a stabilirla a darla fuori e mio marito sono con lui da 40 anni quindi direi che tornarsi indietro di fare tutto uguale sono un po radicata le ai valori capito che ci sono ovviamente in un mondo dove tutto si evolve separazioni ci sta tutto però io sono molto radicata alle tradizioni ai valori diciamo e mia figlia capito è lei biologa biologa molecolare e però è anche lei che spesso mi spinge mi dà consigli ci confrontiamo molto io l'ho voluta avere la volevo entro i 25 anni poi è arrivata a 26 ha sforato di un anno però la vicinanza insomma di generazioni diciamo no e c'è una figlia che può essere un'amica mi riesce capito a completare in tante cose ad aiutarmi ovviamente mio marito lo stesso non avesse questa base qua forse sarei meno forte per affrontare certe sfide ecco anche di nuovo per ricollegarci al discorso giovani diventando mamma giovane parlando dei giovani oggi è cambiata molto anche la situazione è diventata più delicata quella dei ragazzi anche nel periodo post covid insomma quello che stiamo vivendo insomma io noto io ormai da vent'anni tratto le ragazze nei concorsi di bellezza che sono concorsi non solo così effimeri ma trattiamo temi come femminicidio quindi abbastanza pesanti sul sociale e sono cambiate tanto sì purtroppo si sono cambiate sono molto più diciamo svuotate probabilmente il covid ha fatto la sua parte perché se pensi che gli hanno tolto due anni di vita diciamo perché chiuse dentro quindi azzerati un po le attività è uno stop di vita mentre le persone mature si sono due anni che perdi nei bambini e negli adulti nelle ragazze sono due anni di vita che hanno perso comunque non gli ridanno più nessuno e sono cambiate nel senso che le vedi molto più deboli molto più fragili e questa fragilità che pochi avvertono si tramuta poi in baby gang che le vediamo all'ordine del giorno sfocia nell'alcol sfocia in tante purtroppo problemi che ci sono che sono evidenti anche la nostra città quindi vanno molto molto attenzionati in questo periodo di campagna elettorale leggo di lei che vuol fare sì che questo periodo diventi un periodo di ascolto quindi accogliere ascoltare le esigenze dei cittadini quali sono le richieste principali allora le richieste principali io che quelle che avverto io ovviamente sanno come sono fatta sono proprio sul sociale mi capita giornalmente di incontrare persone disperate che hanno anziani in casa che non sanno come gestirli che non trovano dove sistemarli che magari tutte le case di riposo sono piene non hanno più posti e a livello di servizi sociali nessuno fa nulla ci sono persone capito messe molto molto male e oltre a questa parte degli anziani i giovani soprattutto mi dicono ma gli eventi ma qualcosa in più dei concerti delle cose per noi perché tu vai a farli fuori io sono appena tornata da chianciano terme dove abbiamo fatto la finale nazionale dove andiamo facciamo eventi grandiosi e qua non ci sono non ci sono devono scappare in Romagna che poi no sempre il problema delle strade degli incidenti secondo me bisognerebbe fare degli eventi ma fatti a livello grande a livello insomma importante dove però sono coinvolti i nostri ragazzi non solo come spettatori ma come attori principali allora gli dai importanza gli dai valore per esempio il carnevale far partecipare come sempre stato no le ragazze sui carri l'animazione sui carri quella per esempio è un evento importante per loro però è uno bisognerebbe creare una rete dove i ragazzi si sentono protagonisti perché altrimenti li perdiamo e sfociano in quello che poi purtroppo vediamo spesso e volentieri anche in centro in varie parti della città manca poco per ritornare alle urne si va a votare facciamo allora un appello al voto sì allora intanto in primis io invito tutta la gente andare a votare di qualsiasi fazione diciamo perché comunque è importante il voto è un diritto che abbiamo e va utilizzato e purtroppo la gente è molto sfiduciata ed è comprensibile perché magari dicono sì votiamo poi non si cambia mai nulla siamo sempre punto da capo però a livello comunale contano molto le persone quindi bisogna dare fiducia alle persone che hanno voglia di fare e nella nostra coalizione ce ne sono tante che sono lì proprio perché amano la città perché hanno voglia di fare del bene alla città quindi l'invito al voto è questo di andare proprio a votare tutti in massa e credere soprattutto nelle persone e chi ha competenze lo sanno perché se li conoscono competenza e anche conoscenza profonda del territorio perché bisogna votare persone che sanno quello che fanno conoscono diciamo anche la fanesitudine perché in ogni posto ovviamente ci sono le caratteristiche di una popolazione che vive in una città e ha determinate caratteristiche che siano residenti che siano nati a fan o che siano comunque residenti ma che vivono nella città e conoscono la città quindi va data secondo me la preferenza delle persone che conoscono il territorio e io mi auguro che possiamo cambiare le sorti della nostra città perché diciamo che ci sono tantissime cose che non vanno ovviamente noi non avremo la bacchetta magica però la sola idea di avere un sindaco giovane e soprattutto competente al massimo della competenza ci dà forza ci dà sicuramente la possibilità di prenderci la città e di fare insomma tutto quello che abbiamo da fare grazie allora Francesca Cecchini per il suo contributo grazie a Riccardo Sora in regia e a tutti voi per l'attenzione vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi arrivederci grazie a tutti